Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità in corso, lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, questa la situazione in città sono attive le metropolitane e la ferrovia a termini centocelle, per quel che riguarda le metro possibili temporanee chiusure di alcune stazioni, gli aggiornamenti in tempo reale sono sul sito di Atac, per quel che riguarda bus e tram, possibili temporanee riduzioni di corse o sospensioni di linee, la protesta è in programma sino alle ore 17 e poi dalle 20 a fine giornata, in regione possibili disagi sui collegamenti Cotral, aggiornamenti sul sito internet cotralspa.it, in Roma Servizi per la mobilità, chiusi lo sportello permessi e il contact center 0657003. Grazie a tutti!